Bene ragazzi, buonasera, buonasera, rifaccio questo video con un'angolazione un po' diversa perché purtroppo ho spaccato il sostegno del supporto che ho avuto di solito un po' per la frenesia di fare la live, un po' perché ero arrabbiato quindi l'ho praticamente distrutta Bene, adesso un pochino più calmo sono rispetto a live che è andato a vedere, è stata molto accesa molto accesa perché era a sangue, diciamo a caldo, a caldissimo adesso sono un pochino più tranquillo, bene ho analizzato anche un po' le parole di Pioli che siamo stati poco lucidi e troppo frenetici che ha messo dentro Musa perché gli sembrava la persona più adatta per contrastare l'unico giocatore veramente pericoloso del Lecce lavoro che sa fare perfettamente Florenzi con la sua esperienza toglie un terzino Calabria per un risentimento ai flessori come dice lui, a me sembrava che stava benissimo per mettere dentro un altro giocatore e poi per rimettere dentro un terzino, ripiazzarlo terzino destro perché a quel punto allora si poteva fare, a quel punto quando è rimesso Florenzi Florenzi allora a quel punto poteva contrastare, prima non poteva poi dopo poteva bene, già qui la lucidità è andata a farsi benedire e poi passa a due punte mettendo Jovic dentro non ha mai utilizzato Adli che è l'unico che poteva dare profondità alla manovra che poteva dare lucidità, che poteva dare precisione in un caos incredibile e ha invece preferito tenere dentro Rade Krunic 90 minuti con un'ennesima prestazione imbarazzante e imbarazzante di più sono i telecronisti che ci vengono a raccontare che Krunic è fondamentale durante la partita Krunic è un giocatore fondamentale per questa squadra si saranno comprati anche i telecronisti, non lo so per dare man bassa, per dare comunque credibilità a un giocatore inutile come quello che è Krunic non voglio infiarire oltre ma credo che sia arrivato il momento di prendere una decisione importante una decisione essenziale, una decisione definitiva soprattutto nei confronti di un allenatore che ha totalmente perso lucidità nella scelta dei tecnicismi e dei tatticismi è impressionante quello che riesce a guastare durante una partita e poi se la prendiamo lui se la prende sempre con i giocatori frenetici troppo lunghi, troppo lucidi quando molto spesso e semplicemente basterebbe dire scusate ho sbagliato io non è mai uscita una cosa del genere dalla bocca di Pioli non ho mai sentito dire scusate ho sbagliato è sempre colpa dei giocatori che sono poco lucidi che giocano male che interpretano male la partita e io mi chiedo ma chi li mette in campo questi giocatori? chi sceglie i tatticismi? chi sceglie le manovre? chi cambia i moduli durante la partita come ha fatto lui? ne hai cambiati ben tre e ringrazia Pioli che non hai perso questa sera perché si poteva tranquillamente perdere perché era un leggero pestone da come raccontano, da come si vede alle immagini che normalmente nelle partite viene concesso perché appena appena sfiora la punta del piede del difensore quindi poteva essere anche convalidato quel gol non sarebbe venuto assolutamente giù il mondo invece no invece decide che quel gol non sa da fare quella vittoria Lecce non deve prenderla e il Milan si porta a casa il suo punticino e continuiamo nella fase negativa di un trend in cui è un mese che non vinciamo una partita bene signori esattamente è un mese e cinque e quattro giorni che noi non vinciamo una partita di campionato ditemi voi se questo è normale se è normale se è sempre solo colpa dei giocatori che non hanno voglia di giocare che non si impegnano io vedo delle partite strane vedo Milan perdere con l'Udinese fare un partitone col PSG e poi dopo rischiare di perdere anche con Lecce un Lecce che praticamente non vinceva da tempo in memore e che stava rischiando di vincere con noi non vorrei dilungarmi oltre lascerei a voi le riflessioni per capire per chiedervi cosa dobbiamo fare e capito sarebbe banale dire il pioli out ma sarebbe anche logico sarebbe banale dire mandiamolo a casa ma sarebbe anche sensato per l'amore di questi colori per l'amore di questa squadra per la considerazione che deve avere questa squadra in un contesto italiano europeo cardinello scendi giù valuta bene pasta e fasul fai un cambio in corsa lo so che tu ti dite rimarrà fino a fine anno perché costa troppo però poi c'è da mettere sul piatto la bilancia costa troppo quanto ti costa invece se non vai avanti se non ti qualifichi in champions se non arrivi agli ottavi quanto costa bisogna valutare queste cose sul piatto la bilancia e poi tirare le somme certo che andare avanti così è uno scempio perché in questo momento l'unica colpa che vedo è di un allenatore che si ostina a utilizzare giocatori giocatori inadatti a discapito di giocatori invece che potrebbero essere più funzionali questo è quello che mi fa arrabbiare ragazzi ditemi voi cosa ne pensate intanto vi auguro buona serata sempre e comunque ovunque Forza Milan noi ci sentiamo domani e adieu